Buongiorno ragazzi, ormai a me sta venendo la gobba praticamente a stare qua così perché è la quinta volta che provo a registrare questo video ma mi sono una fallita e non ci riesco Allora, siamo qua per parlare della booktubitale legge indipendente Io ringrazio il Mr. Tellino per aver accettato la mia adesione nonostante sia un po' in ritardo con la tabella di marcia e la mia adesione in realtà è praticamente momentanea perché solamente a settembre per il momento aderirò perché le immediate case editrici indipendenti scelte che ovviamente non vi dirò non mi interessano e quindi per il momento sarà la mia unica adesione Questa adesione riguarda il mese di settembre e riguarda quindi la case editrice BAO Questo mese della BAO ho letto ben, questo mese scorso della BAO ho letto ben due grafiche novel le mie, non le prime perché avevo letto anche Freezer che non mi era piaciuto ha fatto scambiato anche se mi sono un po' pentita perché graficamente era parecchio bello e ho letto Iera chiama l'estate delle Cucine Tamaki e Baderico di Giulio Maccaione Vi parlerò appunto di questi due libri perché fanno appunto parte sia del progetto della Bocchia Vitale Indipendente sia perché comunque sia ho bisogno di parlarvene perché sono due tra le grafiche novel più belle che abbia mai letto guardato, spogliato, non lo so Parliamo di Basilico che è quella di cui forse è un po' meno da dire Basilico è graficamente ineccepibile, costa 15 euro ed è molto piccina io l'ho pagata 1,50 è ineccepibile perché ha delle tavole stupende, sono in bianco e nero o in alcuni frammenti in seppia perché si riferiscono ai ricordi, alle rimembranze questa è la parte di seppia ed è veramente, i volti di Maccaione sono qualcosa di bellissimo a mio parere sono veramente stupendi mentre questa qua è la parte in bianco e nero ed è una delle prime pagine appunto come potete vedere perché c'è proprio il logo, il titolo diciamo del fumetto è un volume bellissimo, è un volume che parla di una famiglia padermitana che si ritrova a dover affrontare il lutto derivato dalla morte della madre il padre purtroppo già manca da parecchi anni è morto quando il piccolo dei figli è nato sono 5 figli, 5 fratelli, 3 maschi e 2 femmine abbiamo una rappresentazione molto variegata di quella che può essere l'umanità abbiamo un insegnante che è anche un padre di famiglia abbiamo un ragazzo omosessuale che non riesce a trovare quella che è la sua stabilità non riesce a trovare un equilibrio abbiamo il più piccolo dei figli che se non mi ricordo male non ricordo se è un fotografo o un attore è un qualcosa di simile che viaggia molto ed è il più giovane, ha una ventina d'anni poi abbiamo le due sorelle, la più grande che è, no non mi ricordo quella che è la più grande è quella di piccola, comunque una che è in bischietta, in un matrimonio addirittura che ormai le sta stretto nonostante la sua bellezza purtroppo non riesce a e poi appunto la bellezza vuol dire poco nell'esistenza comunque nel libro viene sottolineata molto la sua bellezza ma in realtà c'entra poco probabilmente con le sue sfortune in amore e vabbè e poi abbiamo un'altra figlia che mi sembra sia la ragazza più piccola ma non ricordo quella delle due sia più piccola penso che siano abbastanza vicino all'età non ricordo chi sia la più giovane e chi è la più vecchia e appunto lei invece è un'artista, una pittrice che cerca di vivere gli dipinti cerca di vivere la sua arte ma con grandi difficoltà questa storia appunto si svolge a Palermo e si svolge in parte nei giorni nostri e in parte molti anni addietro quando i due capofamiglia quindi l'uomo e la donna il padre e la madre si incontrano e si sposano è un volume veramente bellissimo è secondo me tra virgolette del gran pregio nel senso che ha una scrittura una scrittura, buonanotte un disegno, un tratto bellissimo penso sia uno dei tratti più belli che io abbia mai visto ed è proprio quello che piace a me realistico abbastanza semplice il fatto che se bianco e nero non lo penalizzo per niente mentre alcuni fumetti bianco e nero vengono parecchio penalizzati dalla mancanza di colore perché comunque questo è ricco di ombreggiature e di conseguenza questo rende un attimino tramite la scala dei grigi quasi la scala dei colori anche se le parti in seppia sono stupende a volte abbiamo alcune pagine come per esempio questa che usano questi escamotage particolari per rendere un attimo più movimento dalla storia e poi a ogni capitolo abbiamo le ricette ogni capitolo è narrato dal punto di vista di uno dei figli che devono appunto in qualche modo avere a che fare con la morte della madre e poi ci ritroviamo alla fine del libro a suo funerale per cercare di capire cosa è successo perché la madre è morta quindi è una sorta quasi di mistero la tavola finale è questa che è molto bella la cucina le ricette sono le ricette del pesto scusa la trapanese la pizza la caponata e e e e e e e la tassa di pomodoro e trovo veramente questo fumetto completo bello ricco interessante non gli troverei un difetto neanche volendo cioè per me l'unico difetto che potrebbe forse avere è il fatto di essere troppo corto io sinceramente farei una specie di saga familiare a graphic novel su questo perché questa famiglia è una famiglia quindi sono affezionata molti dei fratelli sono riusciti a trasmettermi qualcosa e io sono riuscita ad entrare in empatia con quasi tutti loro e quindi sinceramente è un fumetto che consiglio bellissimo vale tutti i soldi che costa anche senza lo sconto della BAU sinceramente e la giornale avevo usci liste da parecchio volevo approcciarmi c'era un po' tettubante perché avevo sentito dire che c'erano delle parole in diretto palermitano quando in realtà poco niente veramente poco niente ci sono alcune scene veramente che mi hanno toccato molto perché mi hanno ricordato moltissimo la Otranto io sono stata Otranto per sei mesi e qui c'è questa tavola per me è proprio soprattutto questa è proprio sembravo Otranto e quindi in questa tavola mi sono quasi messa a piangere per la commozione perciò se siete legati anche un po' a questi panorami queste tipiche ambientazioni del sud con il verde la religiosità sempre prorompente non lo so mi è piaciuto moltissimo mi è piaciuto veramente veramente moltissimo niente da dire stupendo e poi per 13,50 euro invece del 18 sono riuscita ad accappararmi e la chiamano estate di Gillian Tamaki e Mariko Tamaki Gillian è la disegnatrice mentre Mariko è la scrittrice della graphic a parte la copertina che comunque sia sì è carina ma costina vogliamo parlarne e soprattutto il retro ragazzi il retro per me è qualcosa di stupendo l'ho anche utilizzata per la One Book of Mount Training Challenge perché appunto è tutta viola e quindi per settembre era perfetto vi faccio vedere alcune delle mie tavole preferite questa graphic si concentra sulla vita o meglio sull'estate su una delle tante estati di Rose e Windy che sono due amiche che trascorrono ogni estate quasi incontrano proprio ogni estate perché vanno a trascorrere questo periodo dell'anno al mare nello stesso posto la graphic parte fondamentalmente da una base molto semplice ovvero l'adolescenza o forse la periodo all'oscienza la pubertà quel passaggio in cui ti rendi conto o meglio non ti rendi conto ma quando poi ti guardi indietro lo capisci che è avvenuto di quando lentamente passi ad essere un bambino a qualcosa di più quello che si suol dire né carne né pesce ecco quindi quando ci si approccia alla sessualità alla femminilità perché è molto concentrato sull'adolescenza femminile quindi l'approcciarsi alla crescita del seno all'avvento del ciclo alla riscoperta della sessualità la prima cotta le trasgressioni che possono essere molto banalmente guardare i film loro di nascosto anche se ci viene proibito andare in un tal posto anche se ci viene proibito fare quella tal cosa anche se ci viene proibito e quindi sicuramente è una grafica che nella sua semplicità trasmetto tutto quello che è il passaggio dall'infanzia alla crescita alla pubertà alla preadolescenza e i disegni sono stupendi sono in bianco e nero che in realtà non è propriamente nero ma più che altro una specie quasi di grigio violaceo non saprei ben come definirlo è un colore stupendo i disegni sono bellissimi e abbiamo anche dalla presentazione di di alcune due famiglie le due famiglie appunto di Windy e Rose soprattutto Rose viene messa molto in evidenza la famiglia di Rose più che quella di Windy che quindi contribuiscono a rendere più difficile il passaggio dall'infanzia alla pubertà che è normale perché spesso e volentieri quasi nessuno di noi ha la grazia di vivere in una famiglia perfetta e quindi ci si ritrova a dover affrontare i problemi che già abbiamo dentro di noi quindi il fatto di cambiare di non capire cosa fare come farlo ma anche di avere problemi esterni che vanno a intaccare il nostro percorso quindi problemi fra i genitori problemi con i genitori problemi dei genitori e quindi abbiamo proprio la rappresentazione di una tipica maturità una tipica crescita che avviene in un ambiente abbastanza normale che è quello di una famiglia che come tutte le famiglie non vive in una vita tutta rose e fiori e che quindi presenta dei problemi abbastanza comuni che tutti possono avere vi sto facendo vedere qualcuno delle metà quelle preferite che sono veramente belle sono molto meno probabilmente realistiche diciamo di quelle di Macaione un po' più tondeggianti in certi punti soprattutto i volti sono molto meno realistici particolarizzati di quelli che viene facendo per esempio uno di quelli che possono essere i volti di Macaione e trovo anche questa graphic novel veramente bellissima forse l'ho preferita perché è un po' più profonda di Basilicò e più vicina a me certo è anche un mattonazzo quindi ovvio che questa graphic novel ha anche approfondito in maniera più specifica le tematiche trattate mentre appunto Basilicò guardate la differenza questo è un filino questo invece è un mattonazzo quindi ovvio che qua c'è stato più tempo e più spazio per approfondire le tematiche trattate e la consiglio senza un bar di dubbio anche questa come Basilicò secondo me vale tutto ciò che costa anche anche a prezzo pieno varrebbe comunque 6-18 euro cioè vale quello che uno paga per averla secondo me decisamente e la cosa che mi ha particolarmente divertito la cosa che ho notato è stata che qua non viene rappresentato un tipico paesaggio marittimo come può essere che ne so la costa azzurra con dei mari bellissimi tutti in bikini ma nemmeno una cosa come Rimini con tanta vitalità discoteche gente che beve ragazzi qua è una specie di quei tipici paesaggi di quei tipici paesini che sono sul mare senza volerlo non so se mi riesco a spiegare bene però sono quei tipici paesini dove c'è il mare ma non si sente tanto perché entra a far parte di una quotidianità che viene interiorizzata da chi ci vive e anche da chi ci va in vacanza in maniera quasi inconscia è quasi una specie di mare in campagna perché abbiamo anche moltissima moltissimi ambienti appunto diciamo di verde di legno di quasi foresta direi più che foresta bosco è più adeguata e adesso vediamo se riesco a trovare una tavola dove si vede bene tutto il bosco allora intanto vi faccio vedere questa che è veramente bellissima la bellezza appunto di queste grafiche anche che i personaggi si dividono sempre soprattutto ovviamente le protagoniste fra il mare e il verde ed è una cosa che mi piace moltissimo sinceramente e dai 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 che devo trovare qualcosa ce la farò prima o poi ce la posso fare a parte questa per esempio che è veramente bellissima c'è una grande rappresentazione anche del cielo che mi piace molto perché viene usata una tecnica che non saprei assolutamente definire ma per la quale si vedono si riconoscono chiaramente le nuvole nel cielo e le trovo bellissime è tutto disegnato alla perfezione secondo me il mare il cielo il verde non lo so è veramente perfetta veramente perfetta adesso non riesco a trovare quella tavola che vorrei farvi vedere maledizione magari verso il fondo ce la posso fare forse ma forse no eccola questa è proprio la tipica rappresentazione di quello che io mi immagino quando vengono fuori degli sprazzi di verde dentro adesso la graphic novel ed è proprio così è divisa fra campagna e mare un mare campagnolo una campagna varissima una cosa veramente molto particolare quelle tipiche campagne quei tipici luoghi di non vacanza dove quasi nessuno andrebbe in vacanza se non perché c'è legato da un qualche ricordo particolare quei tipici posti quasi familiari che uno prende un po' in simpatia diciamo prende un po' cuore e quindi ci ritorna spesso mi ha dato quella sensazione quindi di familiarità che mi è piaciuta molto sono sicuramente due opere che vi consiglio che valgono tutto quello che spenderete per loro su amazon comunque c'è il calonico 15% di sconto quindi non preoccupatevi anche se non c'è più il 25% della bau c'è comunque il solito 15% di amazon quindi prendete le consigliatissime sotto vi lascio tutti i link riguardo i partecipanti al progetto di questo mese e adesso volevo darvi un paio di informazioni a carattere generale ovvero 1 domani nel wrap up nella terza parte vedrete tutti i libri meno uno che mi sono dimenticata ovvero tre volte la bari baricco non mi è piaciuto non voglio starvene a parlare tanto perché appunto è stata una delusione io in casa da leggere di baricco ho ancora oceano mare io ho già letto seta e novecento e per quello ho dato la fiducia a prendere oceano mare e peraltro a prendere oceano mare buonanotte a prendere tre volte all'alba peraltro questo libro era stato consigliato molto fortemente da seminary books mi sembra che si chiami Samantha comunque e lei ne aveva parlato molto bene e quindi mi ero anche fidata di lei perché è una delle booktuber che purtroppo pubblica poco ma quando pubblica sicuramente sono una delle prime a visualizzare perché mi piacciono moltissimo come parla di libri e mi piacciono moltissimo anche le sue letture in generale purtroppo questo libro non mi è piaciuto non ho trovato un senso a questo libro non ho trovato il mamma che capelli raga non ho capito per quale motivo Barico ho sentito il bisogno di scrivere questo libro certo è che so che il libro se l'ho scritto perché viene citato in un'altra opera di Barico che è Mr. Wynn e quindi Barico viene pensato poi di scrivere il libro che cita lui stesso nel suo libro quindi non avendo letto Mr. Wynn sono abbastanza sicura che sia questo libro non posso sapere bene quale funzione avesse tre volte l'alba in quel volume perciò magari posso dare un giurito solamente a metà però io posso dire che per quello che ho letto trovo l'opera insensata insignificante e non capisco perché Barico ha sentito il bisogno di scrivere di mettere su carta questi suoi racconti che sono abbastanza poco credibili sono non particolarmente originali capisco gli intenti che c'erano dietro i racconti perché spesso e volentieri trapelava palesemente il sentimento l'emozione che voleva trasmettere Barico ma nonostante mi siano arrivati non mi hanno particolarmente toccato e questa è una il libro comunque l'avevo preso in scambio e l'ho poi riscambiato quindi nessuna grande perdita seconda cosa sono riuscita finalmente a aiuto ingranare con Signore delle Ombre che trovo sicuramente più meritevole del primo non all'altezza delle precedenti saghe della Claire ma sicuramente meglio del primo comunque ve ne parlerò meglio sia in un video specifico sia in un video di ottobre sono già pagina 120 circa quindi spero di finirlo abbastanza in fredda sicuramente più in fredda del primo comunque la terza cosa è che come potete notare adesso sto pubblicando un video al giorno ma è un caso particolare perché uno vi voglio iniziare un attimino prima che inizi il periodo drammatico dell'università due sono stata assente per un sacco di tempo tre ho un sacco di cose da dirvi purtroppo la settimana prossima termine di 16 io comincerò l'università le lezioni e quindi non avrò più tutto questo tempo per voi e in parte anche per me quindi avrete un video a settimana penso in generale sicuramente non lunedì e martedì perché sono due giorni pienissimi in più sono anche fuori sede quindi c'è sono un po' lontana devo andare lontano a un paio d'ore da qua alla casa mia quindi già che lunedì faccio dalla 9 alle 18 la figurati da che ora arrivo a casa quindi no è più probabile che la cosa si svolga dal mercoledì alla domenica quindi o infrasestimale mercoledì giovedì venerdì o ancora più probabile nel weekend comunque non ho la programmazione non mi interessa averla perché non lo trovo particolarmente funzionale a quello che devo fare perciò comunque purtroppo vi avviso che non ci saranno così tanti video come adesso l'ultima cosa che voglio dirvi è che non ricordo se nella seconda parte del wrap up vi ho detto che in seguito alla lettura dei canti del ribelle ho visto Thor oggi ho visto Thor 2 ovvero Dark Wars e devo dire che purtroppo ho delle riserve sulla Marvel in generale perché trovo che nonostante abbia paretamente un altissimo budget e quindi abbia sia in grado di costruire dei film bellissimi da vedere delle opere d'arte fotografia sceneggiatura attori scelti effetti speciali sono veramente bellissimi e meritevoli è come se praticamente il pensiero di sceneggiatura regista si cristallizzassi in realtà senza proprio con uno soco di dita che è una cosa fenomenale ma purtroppo trovo che la poca profondità dei personaggi sia un gravissimo difetto perché mentre il mondo stesso è anche particolarmente ben caratterizzato i personaggi sono o cattivi perché devono essere cattivi o buoni perché devono essere buoni e la cosa mi dà parecchio fastidio perché le persone non sempre non voglio dire non sono quasi mai ma non sempre sono cattive perché vogliono esserlo ma spesso e volentieri qualcosa le porta ad essere cattivi come spesso e volentieri qualcosa porta qualcuno ad essere buono quindi il fatto di dire ah io voglio distruggere l'universo voglio darlo in mano a un dio crudele che vuole dare l'immortalità a tutti ma tutti l'hanno scuritato tutti i dressi tutti i bastardi perché lo vuoi fare? boh perché lo voglio fare? perché? perché non ha senso la cosa capite bene che questa cosa non ha senso la cattiveria spesso e volentieri non è immotivata quindi perché realizzare un prodotto così buono sotto ogni punto di vista e poi perdersi in una cazzata come può essere la caratterizzazione del personaggio diamo uno sputo di motivo ai cattivi di esserlo questa cosa vi sembra essere molto una specie di marchi di fabbrica della Marvel perché ho visto anche ovviamente Thor 1 e Doctor Strange che è uno dei miei film preferiti ma sarà perché c'è Benedict Cumberbatch? no ma va figura che non è mica per questo beh comunque sono dei film ineccepibili a livello visivo a livello di costruzione dell'universo sono anche in questo caso ineccepibili quando poi si parla dei personaggi secondo me sono veramente deboli personaggi e relazioni non sono assolutamente ben costruite secondo me in questo film che ho trovato ancora più debole del primo a mio parere ma per un problema personale che ho con il piccolo popolo a me è Fignomi Fate Folletti non mi piacciono particolarmente se non le fatte di Cassandra Clark che mi piacciono moltissimo ma in linea generale non mi piacciono molto di conseguenza ovviamente parli già male perché se mi parli di un film in cui il cattivo è un elfo che cazzo parli già male per me però è una cosa molto personale quindi per questo lo trovo inferiore rispetto al primo in realtà probabilmente a livello anche di costruzione un attimino dei colpi di scena è forse superiore al primo soprattutto a un certo punto una cosa che fanno l'Occhiettore chi l'ha visto capirà è tipo mio Dio cosa cioè tipo sei lì come dire ah sì lo sapevo che sarebbe tutto e poi oh cazzo no quindi chi l'ha visto capirà è ok Loki in questo film mi è piaciuto molto forse più del primo l'ho trovato ho trovato che gli si desse uno spazio più idoneo a quello che è il suo personaggio e che gli si desse una sfaccettatura migliore e più profonda l'ho capito di più l'ho visto anche più coinvolto e l'ho capito di più il suo diciamo dramma interiore ecco e mi è piaciuto molto la storia d'amore la trovo come sempre molto debole molto fragile molto instabile molto immotivata però va beh fa niente non importa è così e ce la prendiamo così e ditemi di voi se volete magari un video non ho sentito sia una profana un ignorante in merito riguardo ai pochi film della Marvel che ho visto perché lo farei molto volentieri ecco soprattutto Doctor Strange che ho visto già due volte e penso di guardarlo una terza volta prossimamente molto vicino perché io adoro Doctor Strange adoro Roberts Camberbush cioè raga è bellissima è gnocchissima madonna adoro e detto ciò abbiamo finito con recensione e cazzate e quindi posso salutarvi liberarvi dall'honor di continuare a vedere questo video infinito e salutarvi e darvi l'appuntamento a domani con la terza e ultima parte del prep up e finalmente ci daremo dalle palle anche questo peso enorme che è fondamentalmente un recap fino a se stesso che non dà nessuna informazione utile sui libri quindi bene chiuso con questo potremo poi passare alle recensioni o ai video tag o cose simili quindi ciao a tutti buona vita e buone letture